25 maggio 1922 nasce a Sassari Enrico Berlinguer. Berlinguer si iscrive al Partito Comunista Italiano nel 1943 e ne diventa segretario generale nel 1972. La sua segreteria è caratterizzata dalla presa di distanza dal Partito Comunista Sovietico e dallo sviluppo di una nuova via, l'eurocomunismo e dai tentativi di costruire un'asse con l'altro grande partito di massa, la democrazia cristiana. Il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro decreteranno la fine del cosiddetto compromesso storico. Enrico Berlinguer muore a Padova nel 1984, colpito da un ictus durante un comizio. Più di un milione di persone partecipa ai funerali a Roma, in piazza San Giovanni. Grazie.